Gli 81 metri quadri nel suo campo da sola si serve e naturalmente anche di giocare secondo i tocchi deliziosi quando serve il leader della Nazionale e dell'Imoco Conegliano con l'1-10 Monica De Gennaro. Le panchine, inquadrato Marco Penoglio che con Marco Muzzo e sulla panchina di Luca Sizza, dalla parte opposta Daniele Santarelli che è anche il CP della Nazionale Croata insieme a Valerio Leonetti che è il suo vice. Allora 2-6-1 Giulia davvero forti, davvero belli, le due squadre si sono già affrontate nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione, quella che comunque non è finita, tu la vittoria netta a Conegliano, adesso questa cosa dicevamo prima, una fatica nelle gambe delle ragazze lombardi ma anche grande voglia. Grande voglia di far bene, soprattutto con questa finta ma viene scelta Paola e Gonur con la super in due. Adesso proprio Gonur va al servizio. E con grande forza, bravissima Leonardi, pallone sulla pezza della sua alzatrice, e poi l'attacco di Gennari addirittura a Stattinezilla. Benissimo con questa apertura Bonelli, si trova prontissima la capitana di Bustartizio, Alessia Gennari. Rivediamo qua tutta la sua...